Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete Gekko ha rinnovato con Roma fino al 2022, quindi in finalità ipoteticamente di 36 anni Gekko sarà giallorosso. Il discorso di per sé non ci riguarda, meglio non Gekko in per sé, ma ci riguarda quello che potrebbero essere evoluzioni dovute alla permanenza di Gekko e quindi anche a un effetto domino, quello degli attaccanti che non avverrà. Gekko è un giocatore che era promesso, secondo le fonti giornalistiche, fin tanto che si si affida a quelle all'Inter, Conte voleva un giocatore di quel tipo là, sappiamo che Conte predilizza giocatori tipo lui, Llorente, giocatori comunque che fanno sponde, giocano spada da porta e così via un giocatore perfetto per il gioco Llorente con magari un Lukaku che spazia molto di più pur avendo un fisico importante. In ogni caso Gekko potrebbe essere una soluzione per l'Inter importante, visto la presenza di Conte, ma alla fine arriverà a Roma. Chiaramente rinnovo, non sempre rinnovi vogliono dire conferma, ma chiaramente rinnovare durante una sessione di calcio mercato è una conferma a sua volta, almeno per quest'anno. Un giocatore comunque dell'86, 33 anni, come Mario Mazzucic, quindi vecchiotto, sicuramente non starà per sempre a Roma, ma sicuramente non avrà molto ancora da fare a Roma, visto che comunque solitamente i giocatori a una certa vanno altrove e non finiscono sempre in top level. Comunque in club, comunque rinnovati, al di là di tutto, la Roma comunque è un club importante, l'Europeo, ma finiscono magari in Cina, USA, in Arabia e i posti così. Gekko, secondo molti, secondo le fondi giornalistiche, ma secondo anche forse la nostra speranza per sbloccare anche il mercato in uscito da Juventus, sperano che arrivasse appunto una sessione di Gekko per far partire quel tipo di effetto domino di cui si parlava molto. Si parlava di cose, si parlava di un Gekko che va all'Inter, che libera Icardi, che va a un'altra squadra, molti dicevano la Juve, poi si parlano anche il Napoli e così via. Chiaramente la mia speranza è che non venga la Juve, visto che, secondo me, per motivi che ho già detto precedentemente, non è un giocatore attualmente adatto a questo tipo di interpretazione del gioco. E appunto via così, perché la Juventus sbloccherebbe in un modo i guaini in uscita, dandole appunto la Roma che si priva di Gekko. Quindi l'effetto domino era più o meno questo, come sappiamo poi tutti nel ragazzo mercato si basa molto su questo effetto domino. Si pensi ai grandi colpi, adesso Bayer Monaco ad esempio ha preso Perisic, che ok non sblocca nulla, ma però ha anche preso Coutinho, da quanto mi pare si dica. Quindi chiaramente Coutinho libera sicuramente un posto altrove e si scatena così un effetto domino con i vari Neymar e tanti giocatori di vale in primis che vengono accostati spesso altrove. Che sia vero o meno non lo sappiamo, ma sicuramente qualcuno il pensiero ce l'ha fatto, visto che un terzello che esce è un terzello che entra. Nel nostro caso, parlando di Juventus, un terzello che esce potrebbe semplicemente fermare la cosa, perché come sappiamo abbiamo degli esuberi per un discorso di lista, Champions, ma comunque avere 26-27 giocatori è troppo, a prescindere la lista, è giusto avere ne 24-25, giusto così. Quindi un paio di giocatori in uscita la Juventus ce l'ha sicuramente. Iguain era uno di questi, perché chiaramente quando si parla di Iguain poi magari rimane, effettivamente potrebbe così rimanere, visto che l'effetto domino si è in qualche modo bloccato, però è anche vero che Iguain dopo l'anno ha fatto altrove, difficilmente è un giocatore che può essere riabilitato al 100%. Dovesse arrivare, secondo me, l'offerta importante per Iguain, cosa che probabilmente non può succedere, chiaramente la Juve non avrebbe nessun problema a venderlo. Non è questo il caso, quindi l'effetto domino per ora è bloccato. Questa è una parte, è un bene per noi, perché probabilmente non abbiamo preoccupazioni in entrata dal punto di vista, almeno per i tifosi, che siamo tutti molto divisi sul discorso di carni o meno, ma sicuramente è un problema, perché in uscita molti speravano che comunque si bloccasse qualche situazione, non per voler male i giocatori menzionati, potrei dire Ibala, Mandzukic, Matuidi, Iguain, quelli che sono menzionati, ma perché effettivamente è un grande problema avere troppi giocatori più di quelli che servono, anche per un discorso prettamente economico, ma anche un discorso di non riesce a farci stare in tre competizioni, per quanto essi siano tante, tutti questi giocatori a farli giocare. Quindi è chiaro che serva qualcosa in uscita, anche per magari sperare in qualcosa in all'ultimo, un colpo last minute, anche se ormai siamo a metà agosto, inoltre atto, ormai inizia il campionato 24, finisce il 31, insomma la finestra del calciomercato, io vedo dura colpi importanti, a me stupisce ad esempio il fatto che uno come Neymar, che è stato tranquillamente sbolognato ipoteticamente dal PSG, non sia ancora a casa d'altrove, è chiaro che è difficile in questo caso come Neymar trovare quell'occasione altrove, per quanto sia un giocatore appetibile, non appetitoso, nel senso che non si mangia, ma appetibile, è chiaro che sono tanti soldi che alcuni club non possono permettersi, nonostante tutto, perché il Barcellona, comunque, il Risman l'ha comprato e l'ha pagato, il della Madrid ha pagato tanti soldi, quindi chiaramente sono problemi, parliamo di giocatori anche con Niguain, per quanto sia più vecchio, sicuramente meno innomato rispetto a Neymar, è anche vero che però giocatori che costano tanto e che si trovano in qualche modo ad essere diventati esuberi, anche se Neymar fa strano dirlo, ma effettivamente lo è, perché un esubero è qualcosa che non serve più, qualcosa in più rispetto a quello che è un programma, anche se veramente Neymar è Neymar, ecco che la difficoltà talvolta è anche in giocatori come questi, che per questo incrossarsi, lamentare dei costi, anche l'ingaggio prima di tutto, ma anche poi i discorsi di ammortamento e così via, anche i club importanti non vogliono farsi carico di certe cifre, in certe condizioni, parliamo di giocatori magari con Niguain, Calando, come Neymar, che ha un problema anche di gestione, perché comunque il PSG è stato due anni, adesso già vuole andare via dopo quello che ha detto, quindi non è un giocatore facile a tenere in squadra, anche per un discorso praticamente caratteriale, questi discorsi qua. Quindi chiaramente i problemi sono tanti e questo effetto domino, se da una parte all'europeo è iniziato per un discorso di Coutinho e così via, in Italia per il discorso attaccante che ci riguardava e che speravamo si sbloccasse, non tanto l'entrata ma l'uscita, con Dzeko che firma con la Roma un'innova e rimane potrebbe essere un problema, perché effettivamente la Roma non credo che si vada a collare un Niguain con tutte le cifre del caso. Quindi vediamo se effettivamente si può sbloccare in altre vie questo effetto domino, o se effettivamente la Juventus continuerà a puntare sugli uomini che ha. Senza l'entrata, con uscita con i giocatori magari che proprio puoi vendere, penso a Rugani forse, Piazza, Iperin, Maturi e non di più, anzi Maturi già oggi si diceva prima viene venduto, però il giorno dopo non viene venduto, non si capisce più niente, bisogna dire che c'è una grande incertezza anche da parte dei giornalisti, che secondo me dall'atto Juve quest'anno, che è un'opinione abbastanza condivisa, i palatici non ti dà nulla, i palatici trolla la grande e non ti dà nessuna notizia bella e propria. Non ne hanno cercato una, l'unico che ha cercato qualcosa è Pedullà su Sarri, perché si imparca che abbia delle amiciste vicine a Sarri, non alla Juventus, che è ben diverso. E quindi questa confusione mette veramente in confusione tutti quanti, molto bravo anche il DS, insomma, da Roma, che non mi ricordo il nome, a tenere nascosta una trattativa di rinnovo con un giocatore. Cioè, mentre tutti parlavano di Gekko all'Inter, Gekko rinnova nello stesso giorno. Quindi vuol dire che sono dei DS in queste squadre, che lavorano bene, non facendo capire nulla, un po' come è successo con Sarri Guardiola, e un po' come sta continuando a succedere. Domani, ipoteticamente, potremo comprare un giocatore, non saperlo neanche, uno che magari neanche ci aspettavamo, come potremmo già vendere di bala, dopo che si dice che è rimasto, insomma. Quindi il calcio mercato quest'anno è veramente molto confuso, ma da parte nostra noi non riusciamo a capire nulla perché non ci danno vere notizie, ma qualcosina di molto così, che magari è anche frutto un po' di pompaggi mediatici. Vediamo un po' cosa succede, questo effetto domino come finirà, se finirà si inizierà soprattutto, e ci esordiamo. Forza come sempre e alla prossima, ciao!